In 3D Amatrice si celebra oggi la giornata mondiale del servizio sociale, il tema promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale e la scelta di Amatrice non è casuale. Dopo il disastro del terremoto si sono spezzate tutte le reti amicali e familiari e quindi il servizio sociale deve intervenire per ricostruire il tessuto sociale. Cosa ha bisogno questa comunità ora? Cosa ha bisogno di ricostruire, di ricostruirsi, di crederci, di esserci e partire dalle forze dell'energia dei bambini in qualche modo, quindi per questo noi da subito abbiamo costruito un posto dove i bambini potessero continuare a sognare, a sorridere che è quello che serve a tutti noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.